E' con noi Roberto Lunadei appena rientrato nei box del 44 Racing Team Una gara un po' così, ci ha lasciato sperare zona punti per un bel po' E poi dopo alla fine c'è stato un po' un calo, cosa è successo? Purtroppo abbiamo avuto problemi con la sella che si è scollata e non riuscivo più a guidare bene Purtroppo si incollava la tuta al sedile e è stato difficile Purtroppo Marrancone l'ultimo giro ci ha portato via un punto che per noi era il traguardo che ci eravamo prefissati Quindi diciamo che siamo contenti ma non troppo Però il weekend è andato bene, siamo felici Diciamo che è andata bene, comunque noi stavamo lì per sperare anche per un decimo Perché l'hai sfiorato così, poi questa posizione che si era assestata intorno al quindicesimo posto Zona punti, andava bene anche un punticino da portare a casa Avrebbe stato veramente un motivo per fare festa Però è andata come è andata e alle prossime cosa diciamo? Alle prossime speriamo di andare forte e di stare lì davanti Poi dopo il podio, ci vorremmo giocare il podio noi in una gara dell'italiano Adesso vediamo un po' come va Chiamisano, sperando che non sia caldo come oggi Che è stata veramente dura Va bene, quindi un in bocca al lupo e un arrivederci al prossimo appuntamento La prossima gara sarà... La prossima gara sarà il 27 luglio Chiamisano